Salutate Re Vastiger! Perché l'acqua è calata? Girano voci. Si narra la leggenda della spada di un re. Di un re che non sei tu. Va e trovalo. Sono la tua storia. Che uomo saresti diventato? Se avessi ereditato il regno di tuo padre invece di crescere in un bordello. Fuggi, figlio! Che ti ha dato tanta determinazione. Corazzo! L'hai sentito, vero? Il potere. Fu Vortiger a uccidere tuo padre. Non tenne conto di ciò che tu puoi fare con la spada. Dovete essere prudenti. Il suo potere sta crescendo. Quando ti temono, è la sensazione più inebriante che si possa provare. Forza! Da oggi comincia a esistere. Non sei più un mito. Va bene, l'uccido. Mettetelo in ginocchio! Volevate una profezia? Solleva la spada! Demostra al popolo il potere di Excalibur! Stai giocando col fuoco! Ma guarda il palazzo come brucia bene. Ecco il re. Di profezio! Sono con il nostro canale! Ho paura il posto! Di incontro! La scanna è sinistra! Non è più di qui! No! Non è più di qui! Grazie a tutti